E parliamo di cronaca ora e di cocaina e Ultras, l'ultima operazione antidroga dei carabinieri a Milano disegna la geografia criminale dello spaccio, dalle intercettazioni e le minacce dei boss ai capi delle curve. Ce ne parla Elena Scarrone. Erano i detenuti e i loro familiari, fra cui due donne, secondo le indagini, a gestire il fiume di droga che entrava nel carcere di opera. Dal penitenziario i boss, che avevano in uso perfino telefoni cellulari, coordinavano il traffico di cocaina, ascice e marijuana in sette quartieri periferici di Milano, dove altre tante famiglie si occupavano dello spaccio. Dalle case Aler di Rozzano a Quartogiaro fino alla Barona, dove è stato arrestato uno dei rasse, Nazareno Calaiò, fra i nomi più noti degli ambienti criminali dell'Interland di Milano. Proprio Calaiò, 53 anni, detto il Nazza, intercettato nel marzo 2022, riferendosi al capo ultra interista Vittorio Boiocchi, diceva Vado a San Siro e gli taglio la testa. Pochi mesi dopo, Boiocchi, già colpito da Daspo, verrà ucciso per strada da due killer in moto mai identificati. Secondo le indagini coordinate dalla direzione di serfale antimafia di Milano, il Nazza voleva mettere le mani anche sulla curva sud del Milan, progettando di uccidere Daniele Cataldo, vicino al capo ultramilanista Luca Lucci, già condannato per traffico di droga. Gli stupefacenti finivano anche all'estero, in Spagna, attraverso un'azienda di logistica creata apposta per trasferire droga e denaro. Nel blitz, 30 le persone arrestate, 90 gli indagati, sequestrati 300 chili di droga e 240 mila euro in contanti.